Grazie alla banda Vassotti, noi l'avevo detto tanti e tanti anni fa, più di tanti anni fa con una canzone con una canzone che era il paradiso nato un film. Io sto qua stasera a dir grazie ancora una volta alla banda Vassotti, ha alzato la tenda a Duvasi del Chiume, ce l'ha chiamato e noi siamo venuti qua. Come dico sempre c'è chi fa la storia e c'è chi è ormai una leggenda, eccovi qua. Banda Vassotti però, questa della dedico come fratelli, come compagni, però soprattutto a uno che poi ci assomiglia a tutti quanti che voi non vedete mai qua sopra, lui sta al fianco, insomma nel pacco, però io veramente un grande applauso, un grande applauso, un grande applauso, un grande applauso a Davide Vecchione che non so dove sta, però se viene su un attimo è un attimo, è un attimo, è un attimo, è un attimo. Grazie, la vedete, quanto volete. Grazie a tutti andito senza tempo e ci sei un presidente e per gli altri cento e forse fu a vent'anni o forse due di meno e la copia d'altà non esci con la mano a me non vuoi più meno e la mano a me non vuoi più meno e la mano a me è sempre e sempre con il morto il terzo è l'angelo e il quattro re stavano spiato il morto e il terzo guardiano dove si vai a volare c'erano tante mani quante panche da rapiare e forse fu per caso e con Pietro Cavallero e c'era con marcia e non ferme il gaspone e non ferme il gaspone e non fuggiare e tu spaventas a baron e calzando il mio canso e tu chiedi e non fuggiare e tu chiedi e tu chiedi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.